armadio dopo pranzo parlavamo di ragazze altrimenti di che si poteva parlare tra uomini una di noi disse state a sentire a questo proposito m'è capitata una buffa storia e raccontò una sera dell'inverno scorso fui preso all'improvviso da una malinconia opprimente e desolata che turbava nello stesso tempo l'anima e il corpo io stavo a casa solo e capivo bene che se fosse rimasto in quelle condizioni avrei avuta una spaventosa crisi di tristezza quella tristezza che deve portare al suicidio quando ritorna spesso infilai il sopravvito e usci senza sapere quel che avrai fatto poiché ero sceso sino al centro mi mise a camminare lungo i caffè quasi vuoti dato che pioveva cadeva dal cielo una pioggerellina fitta fitta di quelle che bagnano l'anima oltre che le vesti non una brava pioggia temporalesca che viene giù come una cascata e costringe i passanti trefelati a rifugiarsi sotto i portoni ma una pioggia tanto fine che non si sentivano neanche le gocce una pioggia umida di quelle che vi lasciano addosso senza posa impercettibili goccioline e coprono ben presto gli abiti di un velo d'acqua ghiaccia e penetrante che fare andavo su e giù cercavo un posto dove trascorrere un paio d'ore e scoprivo per la prima volta come non ci sia a parigi nella prima sera un luogo di distrazione mi decisi finalmente d'entrare alle folie berger quel divertente mercato di ragazze facili poca gente nel salone la cosiddetta passeggiata a ferro di cavallo non era frequentata altro che da gente da poco le cui origini modeste si rivelavano nel modo di camminare di vestire nel taglio dei capelli e della barba nel cappello nella carnagione era raro vedere ogni tanto un uomo pulito proprio pulito e vestito con una certa proprietà e quanto alle ragazze sempre le medesime quelle orride ragazze che conoscete laide stanche trasandate e con quell'andatura professionale con quell'aria di stupido sdegno che assumono nel mestiere chissà mai perché pensavo che davvero neppure una di queste creature deboli adipose più che grasse gonfie in una parte magre in un'altra con pancette da canonico e gambe da trampoliere sbilenco valeva quel luigi che otteneva di solito a gran fatica dopo averne chiesti cinque ma notai subito una piccolina che mi parve graziosa non più tanto giovane ma fresca civettina provocante la fermai e da stupido senza riflettere le offerse un prezzo per tutta la notte non volevo tornarmene a casa solo solo preferivo la compagnia e l'eccitazione di quella donnina equivoca la seguì abitava in un grande edificio in rue de martyre per le scale il gas era già spento salì lentamente accendendo ogni tanto un fiammifero inciampando nei gradini precipitoso e scontento dietro quella gonnella che frusciava davanti a me si fermò al quarto piano e richiudendo da fuori la porta mi chiese allora rimani sino a domani ma sì come eravamo rimasti d'accordo bene gattone era solo per saperlo aspettami un momentino qui torno subito e mi lasciò al buio sentì che chiudeva due porte poi mi parve che parlasse ne fui sorpreso agitato pensai a un magnaccia ma io ho dei pugni solidi staremo a vedere pensai ascoltai con tutta l'attenzione di cui erano capaci le orecchie e la mente qualcuno si muoveva camminava pian piano con grandi precauzioni poi un'altra porta fu aperta e mi sembrò di sentir parlare ancora ma a voce bassissima la donna tornò con una candela accesa puoi entrare disse quella confidenza improvvisa equivaleva a una prepotenza entrai e dopo aver attraversato una sala da pranzo dove era chiaro che non ci aveva mai pranzato nessuno entrai nella camera da letto la solita camera immobiliata ad ogni puttana con le tende di stoffetta a buon mercato e il piumino di seta ponso striato da macchie sospette ricominciò mettiti in libertà gattone io ispezionavo sospettosamente l'appartamento eppure niente poteva preoccuparmi la donna si sfogliò tanto presto e poteva infilarsi a letto prima ancora che io riuscissi a togliermi il sopravito si mise a ridere beh che hai sei diventato una statua su spicciati limitai e la raggiunsi cinque minuti dopo avevo una voglia matta di rivestirmi ad andare via ma quella stanchezza quell'angoscia spossante che mi aveva turbato a casa mi toglievano ora ogni forza di muovermi sicché malgrado il disgusto che mi aveva preso restavo in quel letto pubblico il fascino sensuale che avevo intravisto in quella creatura sotto le luci false e i lustrini del teatro era sparito nelle mie brazza e io avevo vicino a me ora carne su carne solamente una ragazzaccia volgare come tutte le altre i cui baci indifferenti e professionali sapevano vagamente di aglio mi mise a parlare abiti qui da parecchio tempo hanno fatto sei mesi il 15 gennaio dove stavi prima a via closel ho avuto delle storie con la portinaia e allora me ne sono andata si mise a raccontarmi un interminabile pasticcio con una portiera che ce l'aveva con lei all'improvviso senti muovere vicino a noi era stato come un sospiro poi un rumore leggero ma distinto come se qualcosa si fosse spostato su una sedia mi sedetti bruscamente sul letto e domandai che cos'è questo rumore la donna rispose tranquilla e sicura non preoccuparti gattone è una vicina la parete è tanto sottile che si sente come se fosse qui se brutta casa di cartone la mia stanchezza era così forte che mi ributtai sotto le lenzuola e ricominciamo a chiacchierare spinto dalla sciocca curiosità che costringe tutti gli uomini a chiedere a certe ragazze la loro prima avventura a voler sollevare il velo del loro primo errore come per ritrovarvi una traccia lontana d'innocenza forse per amarle nella rapida memoria evocata da una parola vera del loro candore della verginità d'un tempo le fece insistentemente domande su domande a proposito dei suoi primi amanti sapevo che avrebbe mentito che importava tra tante bugie avrei forse finito con lo scoprire qualche cosa sincera e commovente via dimmi chi è stato era un canottiare gattone su racconta dove stavate io stavo ad argentail e che facevi la cameriera in una trattoria che trattoria il marinaio d'acqua dolce la conosci per dinsi da bonfarin sì quella e come t'ha avuta quel cannottiare mentre gli rifacevo il letto mi prese a forza improvvisamente mi ricordai la teoria ad un dottore amico mio un dottore osservatore filosofo che il servizio quotidiano in un ospedale mette in rapporti frequentissimi con ragazze incinte e prostitute con tutte le vergogne e le miserie delle donne di quelle povere donne che sono la preda dei maschi che si mettono in cerca di loro con i soldi in tasca mi diceva una ragazza è sempre violata da un uomo della sua classe sociale e della sua condizione ho raccolto volumi di informazioni a questo proposito accusano i ricchi di stroncare i fiorellini innocenti del popolo non è vero i ricchi pagano il prezzo un mazzetto che altri hanno colto essi raccolgono solo la seconda fioritura non recitano mai la prima perciò rivoltandomi verso la mia compagna scoppiai a ridere la conosco sai la storia e non è certo il canottiere che t'ha conosciuta per prima sì gattone mio te lo giuro dici bugie gattina no parola d'onore dici bugie su dimmi tutto sembrava che esitasse stupita io insistetti sono un po indovino bella mia sono un ipnotizzatore se non mi dici la verità ti farò addormentare e così lo saprò ebbe paura perché era stupida come le altre balbettò come hai fatto a indovinare io continuai andiamo racconta la prima volta fu una sciocchezza era la festa del paese era venuto un capo cuoco da fuori il signor alexandre da quando arrivò in casa fece tutto quel che gli pareva comandava a tutti al padrone alla padrona come se fosse stato un re era un gran bell'uomo che davanti ai fornelli faceva miracoli gridava sempre presto portami il burro le uova il madera e bisognava portargli di corsa tutta quella roba altrimenti si adirava e ve ne diceva tante da farvi arrossire anche sotto i panni alla fine della giornata si mise a fumare la pipa davanti alla porta e poiché io gli passavo accanto con un mucchio di tovaglioli mi disse così su pupa vieni vicino alla spiaggia per farmi vedere il paese io come una sciocca giandai e appena arrivamo sulla spiaggia mi violentò in un modo tanto rapido che non mi resi neppure conto di quel che faceva poi partì col treno delle nove e non domandai è tutto lei balbettò oh credo che florenten sia suo florenten chi è il mio bambino ah bene e al canottiera hai fatto credere che il padre era lui vero è così perbacco aveva soldi il canottiera sì mi ha lasciato una rendita di 300 franchi intestata al piccino cominciavo a divertirmi ripresi bene bene ragazza mia siete tutte meno stupidi di quel che sembrate e quanti anni ha ora florenten ha 12 anni in primavera farà la prima comunione ottimamente e tu poi fai il mestiere con coscienza lei sospirò rassegnata si fa quel che si può ma un gran rumore che veniva proprio da dentro la stanza mi fece saltar dal letto d'un balzo il rumore d'un corpo caduto e risollevatosi a tastone poggiandosi al muro avevo preso la candela e guardavo attorno spaventato e furioso la donna si era alzata anche lei e cercava di trattenermi di fermarmi mormorando non è niente gattone t'assicuro che non è niente ma ormai avevo scoperto io da dove veniva quello strano rumore mi diressi verso una porta nascosta in un capo al letto e l'aprì bruscamente e vidi tremante mentre spalancava su me occhi terrorizzati e lucidi un povero bambino magro e pallido seduto su una grande sedia di paglia da dove era certo caduto di anzi quando mi vide scoppiò in un pianto mi aprendo le braccia verso la madre non è colpa mia mamma non è colpa mia mi ero addormentato e sono caduto non mi rimproverare non è colpa mia mi rivolsi verso la donna e le chiesi cosa volesse dire lei pareva confusa ed esolata pronunciò fatica con voce rotta queste parole che vuoi non guadagno abbastanza da metterlo in collegio me lo devo tenere no e non posso pagare un'altra stanza quando non c'è nessuno dorme con me quando vengono per un'oretta o due se ne sta nell'armadio sta buono sei abituato ma quando qualcuno rimane tutta la notte come te si stanca a dormire su una seggiola non è colpa sua vorrei vederti a dormire tutta la notte su una seggiola me ne diresti delle belle s'adirava s'animava gridava il bambino piangeva sempre un povero bambino sparuto e timido sì il bambino dell'armadio dell'armadio freddo e oscuro il bambino che tornava solo ogni tanto a godere del calduccio del letto vuoto per qualche momento anche io avevo voglia di piangere e tornai a dormire a casa grazie a tutti